In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen. Laudetur Iesus Christus, Semper Laudetur. Maria Sede Sapientie, Ora Pronobis. Carissimi fedeli, vorrei iniziare con questa piccola e breve catechesi una serie di incontri sul peccato e sulla penitenza. Argomento che ritengo quanto mai attuale e importante in questi tempi appunto in cui la Chiesa e tutta l'umanità è chiamata ad affrontare delle prove molto gravi per le quali è necessario avere non soltanto una fede profonda ma anche una buona disposizione a chiedere perdono al Signore e a fare penitenza. Vorrei iniziare oggi con il dogma della remissione dei peccati il dogma che noi troviamo nel credo credo la remissione dei peccati che si fonda su un brano del Vangelo specialmente su un brano del Vangelo di Giovanni al capitolo 20 quando Gesù risorto dai morti entra nel cenacolo e si rivolge agli Apostoli con queste parole pace a voi come il Padre ha mandato me così io mando voi. detto questo Gesù soffiò sopra di essi e disse ricevete lo Spirito Santo a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e saranno ritenuti a chi li riterrete con queste parole il Signore affida agli Apostoli il compito di perdonare o non perdonare i peccati e Gesù non fa nessuna distinzione tra peccato e peccato peccato perdonabile e peccato non perdonabile in questo brano ma fa distinzione tra chi merita il perdono e chi non lo merita a coloro a cui saranno perdonati perdonerete i peccati agli altri no quindi ci sono delle disposizioni d'animo che permettono di ricevere il perdono e queste disposizioni noi le conosciamo bene sono il pentimento sincero sono la volontà di non commettere più quei peccati che sono stati confessati e anche il compiere delle opere di riparazione a causa dei danni che il peccato ha provocato nei confronti di Dio e nei confronti dei fratelli quindi la riparazione abbiamo detto il pentimento e la volontà di non ricadere in quei peccati il mandato di perdonare i peccati il Signore lo affida non soltanto agli apostoli presenti nel Cenacolo ma anche tutti i loro successori quindi vescovi e sacerdoti che sono i primi collaboratori dei vescovi il Concilio di Trento si esprime in questo modo a proposito di questo argomento dice nostro Signore Gesù Cristo stando per salire al cielo lasciò in sua vece i sacerdoti come governatori e giudici ai quali devono essere manifestati tutti i peccati mortali in cui i fedeli sono caduti e questi per il potere delle chiavi devono pronunciare la sentenza di remissione ecco da queste poche parole capiamo che il Signore ha dato questo compito anche ai sacerdoti e che il sacerdote nella confessione in modo particolare si comporta come un governatore e un giudice governatore nel senso che guida governa, guida le anime guida i penitenti attraverso consigli appropriati quindi è governatore, pastore, guida ma è anche giudice in quanto deve valutare se la persona può essere perdonata oppure no quindi deve emettere un giudizio una sentenza parla proprio di sentenza da parte invece dei penitenti essi devono confessare tutti i peccati mortali tutti i peccati gravi quindi capite anche da questo breve brano del Concilio di Trento che il sacramento della confessione è particolarmente impegnativo per quei sacerdoti che lo prendono sul serio e anche per quei fedeli che vogliono fare delle buone confessioni i mezzi principali attraverso i quali i peccati vengono perdonati nella Chiesa sono i due sacramenti che sono battesimo e penitenza il battesimo per cancellare il peccato originale quello compiuto da Adamo ed Eva è trasmesso a noi attraverso la generazione le generazioni e il sacramento della penitenza per il perdono dei peccati attuali cioè quei peccati commessi dopo il battesimo questi sono i mezzi principali ma ve ne sono anche altri dei mezzi importanti per esempio per i peccati più leggeri abbiamo la preghiera abbiamo atti di pentimento gli altri sacramenti stessi funzioni religiose sacramentali eccetera possono aiutare atti di carità possono aiutare a perdonare i peccati cosiddetti veniali cioè più leggeri l'atto di dolore e quindi il confiteor della messa mentre per i peccati gravi resta l'obbligo di confessarli nel sacramento della penitenza che cos'è il peccato? dice il catechismo il peccato è un'offesa fatta a Dio in che modo viene offeso il Signore disobbedendo alla sua legge ecco solo le creature libere possono commettere peccati quindi solo l'uomo e gli angeli quando sono stati messi alla prova all'origine ecco all'inizio vennero messi alla prova e si schierarono quindi alla prova della loro libertà della loro responsabilità e si schierarono o per Dio o contro Dio mentre l'uomo può esercitare questa libertà quotidianamente a questo libero arbitrio le altre creature inferiori cioè gli angeli cioè scusate gli animali non possono commettere peccato perché obbediscono obbediscono attraverso l'istinto naturale alla legge che Dio ha posto nella natura nella loro natura e nella natura insomma c'è una legge naturale c'è una legge anche rivelata da Dio agli uomini e l'uomo che non vuole peccare deve obbedire a questa legge sia posta da Dio nella natura sia quella rivelata rivelata attraverso la Sacra Scrittura e attraverso l'insegnamento della Chiesa quando si pone contro Dio offende il Signore e compie peccato provocando un disordine sia nei confronti del Signore sia nei confronti del provocando ecco dei danni sia mancando di rispetto al Signore e anche nell'ambiente in cui si trova e nei rapporti con gli altri sia lodato Gesù Cristo in nome dei Patris e Fili e Spiritus Santi Amen